madonna stavo cadendo va bene dai a parte le cadute sapevi che puoi imparare la riflessologia plantare ad avere dei piedi forti dei piedi consapevoli e una postura perfetta attraverso una tecnica antichissima io sono matteo sabattini e pratico la riflessologia plantare lo yoga da ormai 20 anni e insegno nelle migliori scuole di naturopatia in questo percorso ti accompagnerò alla conoscenza della riflessologia plantare si dice la conoscenza attraverso la conoscenza della riflessologia plantare svilupperai una conoscenza non solo anatomica posturale del piede e dell'individuo per cui ma conoscerai anche tutti i concetti esoterici e simbolici riferiti al piede la psicosomatica del piede che è interessantissima la manualità giusta per l'applicazione del trattamento zonale e le tecniche principali che sono tecniche peculiari della riflessologia plantare nonché tutti gli schemi terapeutici simbolici per leggere la persona che hai di fronte a te puoi imparare tutto questo attraverso il mio percorso online e con il tutoraggio privato questa è una cosa che nessuno offre il tutoraggio privato è l'accompagnamento one to one cioè il mio accompagnamento personale verso di te per trasformarti e per portarti ad essere il migliore o la migliore riflessologa del tuo territorio questo percorso è in offerta lancio proprio adesso per cui contattami per ricevere tutte le informazioni del caso e per entrare ci vediamo dentro e sono convinto che sarà il percorso più bello della tua vita